Unica lista certificata nella provincia di Taranto, ci fa piacere per il candidato Lopomo, però le altre liste sono state non certificate con uomini, persone vicine a lei, onorevole D'Amato. Come si spiega? Oggi Cassese, l'onorevole Cassese, che è uno degli ultimi arrivati nel movimento, ha fatto il padrone dicendo nessuno può usare simboli e simboletti che si avvicinino ai 5 Stelle, i vecchi militanti dei 5 Stelle sono stati cacciati quasi a calci nel sedere, è così la vita, non è colpa sua, è per carità. È una lista certificata, quindi hanno ritenuto... Qui sì, le altre sono state... Mi fai parlare? Ah, grazie. C'è stata una specifica, perché evidentemente, ma non le altre liste, io penso, qualcuno stava abusando, io parlo solo anche di altri paesi tipo Pallagianello, dove stanno facendo un abuso particolare del... Lizzano e Pulsano, Pulsano un suo collaboratore non candidato. Perché ha avuto il coraggio di continuare a rimettere a frutto un lavoro di 5 anni. E chi è stata la mente che ha detto qualcosina a Roma? Nessuna mente... Però questo può essere significativo del fatto che, non per colpa tua, per carità, ma evidentemente la tua stella nei 5 Stelle si sta oscurando. È il concetto del partitico della politica. Sto criticando il Movimento 5 Stelle, non te, cioè è diverso dalla prospettiva. Allo stesso tempo stai criticando anche la sottoscritta, perché fino a prova contraria sarei una portavoce del Movimento 5 Stelle. Se avessi voluto, avrei potuto prendere e girarmi i tacchi.